Buonasera a tutti e grazie di essere qui. Innanzitutto due parole su Parmaetica. Questo festival è stato organizzato con il contributo volontario di tutti i volontari che avete visto anche oggi, ieri e vedrete domani. Potrete contribuire all'organizzazione di Parmaetica finanziando l'associazione durante l'anno tramite le attività proposte dall'associazione stessa oppure acquistando dei gadget qui fuori dall'area conferenze. Le donazioni verranno utilizzate per l'organizzazione del festival di Parmaetica. Abbiamo il grande onore di presentare oggi un personaggio molto conosciuto, Jeffrey Mason, scrittore americano che attualmente vive a Berlino, ex psicanalista, ex sanscritista e autore di numerosi libri per i diritti degli animali, tra cui Il maiale che cantava alla luna. Oggi ci parlerà dell'etica superiore degli animali. Vi vorrei dire solamente che in fondo ci sono numerose copie di questi due libri che vedete qua, alcune già firmate e altre che firmerebbe personalmente. Lascio la parola a Jeffrey direttamente. Le domande per cortesia alla fine. Grazie mille. Grazie a Parmaetica per avermi invitato, in particolare a Simonetta, Marco e Elena per l'aiuto. è un grande onore e un piacere per me essere qui oggi con tutti voi a Parma. Spero che i parmigiani, è giusto? Non siano sconvolti, si rifiutano di mangiare il loro formaggio e il loro prosciutto, che una volta trovava deliziosi. Le persone cambiano. Forse anche voi potete cambiare. Ciò che vi racconterò oggi potrebbe scioccare alcuni di voi. Altri mi invetteranno come se avesse detto qualcosa di imbarassante che non dovrebbe essere dichiarato in pubblico, solo in privato, ma sono certo che ciò che sto dicendo sia vero e in qualche ora o in qualche anno sarà considerato ovvio. Eccolo in una sola frase. Noi umani potremo anche essere all'apice della catena alimentare, ma siamo in fondo a quella etica. Datemi qualche minuto per spiegare cosa intendo. Qualche altro minuto per fare ipotesi sulle origini di questo colossale falimento morale. E infine per spendere qualche brave parole su possibile soluzione o sull'allora mancanza. Considerata questa lista. genocidio, odio, omicida, avere nemici, caccia sportiva, schiavitù. Questi termini e concetti, questa realtà, si applicano solo alle specie umane. Nessun animale ha mai tentato di compiere un genocidio. Nessun animale ha nemici. Nessun animale prova odio. Nessun animale si dedica alla caccia solo per il gusto di farlo. Nessun animale possiede schiavi. Beh, potreste sicuramente dire che gli animali che si cibano di vegetali potrebbero non avere questi tratti. Quindi la girafa, il canguru, la balenotera, l'elefante, il rinoceronte, loro potrebbero non avere queste caratteristiche negative. Ma che dire di altri predatori, super predatori, predatori dominanti, predatori primari e come noi, per esempio. Che dire di orche, capodogli, squali, orsi, lupi, coccodrilli e dei grandi feline non sono come noi? In realtà no, non lo sono per niente. Certo, loro uccidono per nutrirsi, ma solo per nutrirsi. Nella quantità di cui hanno bisogno. Beh, potreste ribattere che capita che uccidano anche noi, vero? E non siamo nemmeno parte della loro dieta standard, ma a parte per ragione di autodifessa o di nutrimento, nessun animale che conosciamo ucciderebbe un'altra specie per altri motivi, a cessione dell'animale umano. Un animale diverso dall'animale umano ha mai inventato un'arma? Possiamo davvero affermare che non siano abbastanza intelligenti per poterlo fare? Questo sarebbe un osso molto strano della parola intelligenza, non è vero? Considerate questo fatto. Nessun orca, in natura, il più grande predatore sulla terra, dopo di noi, ha mai ucciso un uomo, mai. Potrebbe farlo facilmente, misurano otto metri di lunghezza e pesano tra le tre e quattro tonnellate. Si nutrono di grandi squali, bianche, elefanti marini, quindi immaginate quanto facilmente potrebbe ferire, uccidire e mangiare un umano nell'oceano. Tuttavia non lo hanno mai fatto. E perché riconoscono con noi un certo grado di affinità o perché la loro cultura etica non permette l'uccisione non necessaria di qualsiasi altra specie? Questo cambia quando catturiamo un'orca e la mettiamo in mostra. Ci sono state quasi due dozzine di attacchi all'uomo dalle anni 70, alcune dei quali sono stati fatali. Poco sorprendente, considerando che mettere un animale di quella dimensione e con un'intelligenza sociale così avanzata all'interno dell'equivalente di una piscina garantisce l'insorgenza di qualcosa di simile al psicosi in questo essere così emotivamente sensibile. Ed ecco il dato in cui mi sono imbattuto, che mi ha fatto realizzare la necessità di ripensare completamente noi stessi e gli altri animali. Solamente nel ventissimo secolo la specie umana ha ucciso più di 200 milioni di altri esseri umani. Durante lo stesso periodo le orche, per ciò che è stato possibile verificare, non hanno mai ucciso un altro orca. Infatti, sempre per quanto non possiamo sapere, nessuna orca ha mai uscito un'altra orca in nessun momento della loro esistenza lunga 11 milioni di anni. È vero, non sappiamo il perché. Avranno delle regole formali, non uccidere. Anche noi abbiamo una regola analoga, ma è ignorata, così spesso che solo dirlo sembra uno scherzo. Tramando questo sapere di madre in figlio non si sa. Ora, noi uccidiamo molte orche, nessuno ne conosce il numero esatto, ma sicuramente decine di migliaia. Noi catturiamo i cuccioli per divertimento. Fino a tempo recente questo è stato considerato normale, ma grazie allo splendido documentario blackfish. Lo conosci? È splendido. La mentalità sta cambiando rapidamente e profondamente. Io non credo che ci sia una sola persona in questa stanza che direbbe sia giusto andare in fondo all'ossiano, separare un cucciolo di orca della sua famiglia, gettarle una retta ad osso, trascinarlo per il mondo, affinché esseri umani, ignoranti, possano fischiare e dichiare quanto abbiano imparato riguardo alle orche assistendo alla esibizione di questo cucciolo. Cucciolo, cucciolo. È una parola carina. Perché si esibiscono? Per noia, paura, non hanno di meglio di fare, non sappiamo. Ora vi chiederò di provare un esercizio mentale. Finalmente c'è stato un contatto con una civilità aliena della spazio, una civilità talmente avanzata rispetto a noi che possiamo a malapena concepire chi siano. Questi alieni sono venuti da noi evidentemente in pace e anche se non possiamo comunicare con loro capiamo che sono generose e caritatevoli. Fino a un certo punto noi ci troviamo così al di sotto di loro che decidono di trasformarci in ciò che riconosciamo vagamente come una qualche sorta di animale domestica. Le nostre vite sono circoscritte alla attività che loro ci permettono di fare. Alcune di noi accettano questa condizione docilemente, altre si ribellano. Ma per quanto possiamo combattere noi non siamo niente in confronto alla loro forza. Veniamo tenuti in gabbie, di qui noi emergiamo qualche volta al giorno su una piattaforma dove questi esseri superiori ci riuniscono e osservano. Si rotolano della risata. Noi impariamo ad imitarle e loro lo adorano. Qualche alieno illuminate sorregge quelle che sembrano dei cartelli di protesta ma sono per lo più ignorate. Loro non intendono farci del male. Siamo ben nutrite, ben curate e alcuni di noi vivono fino a 50 anni, quasi a lungo quanto vivremo in natura. Ora vi chiedo, tutto questo è davvero fantasioso? Noi non abbiamo fatto altro se non questo a delfini, orche, focche e molti altri animali. Cos'è un zoo nella sostanza se non un parco di divertimento? Non importa come cerchiamo di camuffarlo, in centro di recupero o struttura educativa. Cosa avete imparato sull'animale nelle zoo, solo che non appartengono adesso. Ogni bambino ad un certo punto chiede a sui genitori perché questi animali sono qui, vogliono stare qui, hanno scelto di venirci, sono felici e ovviamente i loro genitori mentano a loro o a se stessi. Certo che vogliono stare qui, certo che sono felici qui, certo che stanno meglio che qui, chi qui nel loro ambiente sono molto più sicuri e potremo andare ancora avanti con questo esercizio applicandole all'adomestizzazione stessa. Nel nostro esercizio di pensiero noi umani in qualche generazione, forse in qualche centinaia, arrivaremo ad accettare questa vita di animali domestiche appartenenti ad essere superiore come se fosse normale, esattamente come fanno i cani e i gatti. Questo è difficile di mandare giù per la maggior parte di noi. Che il cane sia un schiavo? Ho scritto un libro, il cane che non poteva smettere di amare. La storia di Benji, ex cane Ghida. Le persone mi dicono voglio morire e rinascere nei panni del tuo cane Benji. Che vita meravigliosa. Dorme ogni notte con il nostro figlio di 15 anni, Manu, non sta là, e lo ha fatto per più di 11 anni. Salta sul letto matrimonio ogni mattina e lecca la nostra faccia con la coda di qua e di là. Esprime così tanta felicità. Non finge. Io ho vissuto con molti gatti, cani e gatti. Pensate a questo. Sono gli unici due animali sul planeta che dormono con piacere insieme a noi. Non stanno in guardia. Siamo la loro famiglia e loro sono la nostra. Ma cosa ci è voluto per arrivare a questo? A cosa hanno rinunciato un cane o un gatto? Qual è la natura originaria di entrambe questi animali? Non essere animali domesticati, sicuramente. I gatti discendono del gatto selvatico africano, un animale della cui vita non si sa quasi niente fino ad ora. Ma potete stare certi che non ha niente a che vedere con il dormire ogni notte con un uomo. I cani? Lupe. Parti di un branco, sempre in movimento, sempre in alerta, complessi sociali. Non credo che noi possiamo riprodurre una vita simile. Voi? Non credo. Tuttavia, ecco la questione. Imparando ad osservare questi due animali da vaccino, possiamo imparare qualcosa sulla nostra stessa specie. E non intendo ciò che non va in noi, ma come essere migliori in un mondo che non potremmo fare senza questa osservazione ravvicinata. Questo è il motivo per cui, credo, esiste un fenomeno attualmente in tutto il mondo. I cani stanno diventando l'oggetto di profondi studi accademici. Quasi nessuna università negli Stati Uniti non possiede un laboratorio sulla capacità cognitive dei cani, anche in Europa. Per prima cosa, loro si fidano di noi così profondamente che dormono insieme a noi, adattando il ritmo del loro respiro al nostro. Io lo ripeto perché è una meraviglia, no? Non è forse questo uno dei gran piaceri della vita, dormire con un cane e un gatto che si fida? In secondo luogo, loro camminano con noi, loro vogliono stare con noi. Perfino i nostri bambini alla fine smettano di camminare con noi, ma non il nostro cane. Terzo, non litigano con noi, non lottano con noi, non si oppongono a noi. Potrebbero pensare che siamo strani, ma vive e lascia vivere la loro filosofia. Quando vedono un altro cane, per la maggior parte, sono interessati, non applicano criteri artificiali. E' carina, è magra, intelligente. Cosa posso trarre di questo incontro? Come posso approfittarmi di lui? Come promoverà la mia carriera? Non pensano così. Ovviamente non lo fanno. Vi sento già dire che sono solo animali. e noi, cioè l'intera specie umana, lo facciamo perché... Perché che? Cosa? Più intelligente. E' per questo che cerchiamo di capire come possiamo trarre il vantaggio di un'altra persona. Lo so, non tutte sono così. Qui nessuno. Ma lo sono così intanto che una spiegazione è dovuta. Ed è qui che l'intelligenza superiore, anche se lo ammettiamo, emerge contro i suoi limiti. Quanto è intelligente mettere a repentaglio lo stesso pianeta da cui noi tutti dipendiamo per la vita? Quanto è intelligente decidere di eliminare un intero gruppo etnico perché non ne apprezziamo la religione, il colore, la cultura, il passato e qualsiasi cosa decidiamo che non ci piaccia di esso. Considerate questo. Quali altre specie hanno mai avuto un Trump? Grazie a Dio. L'idea stessa di sfruttare altri animali per divertimento, sport, profitto, esperimenti. Tutto questo è il risultato della nostra intelligenza superiore? Ok, diciamo anche che noi abbiamo ospedale per animali, ma loro non ne hanno per noi. Ma poi loro non hanno bisogno di metterci in un ospedale perché ci feriscono così raramente. Non intendo questo. Ok, quando osservo Benji attentamente... Benji... In teoria doveva esserci anche Benji, solo che visto che sono venuti in macchina ci sono venute... How many hours? 12 ore. È di viaggio e Benji non è di primo pelo. Ecco. L'hanno lasciato a casa. Però in teoria dovrebbe essere qua a girare attorno e a slecazzare un po' in giro. Per questo parla tanto di Benji. Sì. Mi scuso. Quando osservo Benji attentamente e voi avrete un'esperienza simile con il vostro cane, comincio a notare alcune cose che noi ovviamente diamo per scontate ma che dovrebbero essere ponderate più profondamente. Lui non è avido perché non ha proprietà. Quando mi vede abbracciata mia moglie, Laila, che sta là, la sua coda comincia a... Questa parola. Scodinozalo. Io... È difficile. Bella lingua, ma è difficile. E io posso interpretare questo gesto come il fatto che ama vedere l'amore dovunque e a chiunque si manifesti. A lui piace quando faccio il complimento a un altro cane. Forse è un cane eccezionale, ma penso di no. Ce ne sono altri cani come lui. Invece conoscete qualcuno, un qualunque essere umano che sia felice di vedere il proprio amato, la propria amata, dimostrare amore a qualcun altro? No. Penso di no. Benji trova tutti i cani interessanti. Non solo quelli che li assimiliano. La taglia non importa. La forma, il colore, la razza, tutto quello che gli importa è questo. Sono amichevoli. And I just wanted to say something. They must notice, if you drive your car and your dog is looking out, he always says, stop! C'è un cane! Ok. Ok. Quando guidate in giro e siete col vostro cane che è in macchina, fermi tutti! C'è un altro cane guardando fuori dalla macchina. Ma mi hai già visti migliaia. No, 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 questo qua è speciale. Tutti i cani sono speciali per i cani. Sembra capace di misurare questo aspetto a distanza, evitando i cani che capisce che possono non apprezzare la sua presenza e raggiungere un discorso a altri che sa leggere molto meglio di quanto io posso leggere un'altra persona. Ora stiamo al fine. Ora è tempo di qualche riflessione. Siamo sempre stati queste creature imperfette che ho appena descritto. Dicendo sempre, intendo nel corso delle ultime cinquenta mille anni della nostra evoluzione, penso di no. Questo è un terreno altamente controverso e io sono l'ultimo a spandierare certezza. Ma sembrerebbe che quando eravamo cacciatori e raccoglitori, o meglio, raccoglitori occasionalmente cacciatori, vivessimo nella parità dei sessi, in un'equità molto maggiore, fondamentalmente senza proprietà e certamente senza guerra. Tutto ciò è venuto dopo. Quando esattamente? Nessuno è certo al cento per cento, ma molti studiosi, io sono d'accordo con loro, collocano l'inizio di tutto ciò in concomitanza con un unico evento. L'avvento dell'agricoltura, aggiungerei che ancora più importante, molto più importante, è stato l'inizio della? Ecco, addomesticazione degli altri animali, perché è in quel momento che abbiamo capito che era molto più facile concedersi un senso di avità, di acquisizione, di diritto e di struttamento. Non si sfruttava una mucca o un toro selvatico perché un uomo poteva ferirsi in quel modo. A volte sai tu che mangi l'orso, altre volte è l'orso che mangia te. Ma una volta che l'animale è stato ridotto in cattività, beh, sembra che questo ci abbia dato alla testa e siamo diventati lentamente, ma sicuramente, la creatura crudele che l'uomo moderno è oggi. Stai d'accordo, eh? Ma io credo che ci sia una via di uscita. Alcuni hanno ipotizzato che il più grande crimine nella storia dell'umanità sia stato e sia tuttora l'uccisione di fino a 60 miliardi di animali all'anno per cibo. Se invertissimo questa tendenza, se le umane smettessero di mangiare qualsiasi cosa tranne frutta e vegetale, sarebbe possibile che questo evento ricollegasse il cervello umano al fine di dissolvere lentamente il veleno di avidità, odio, impulsi e omicidi che sono ora così dilaganti nella specie umana. È una questione e non so. Potrebbe essere l'inizio di una nuova età dell'oro? Spero di sì. Ma spero anche, così come molti di voi, che i cani e i gatti continueranno a voler essere i nostri amici più intimi. Grazie. Ok, c'è qualche domanda? Allora, beh, nel frattempo che si sblocchi un po' il ghiaccio, intanto volevamo ringraziare Jeffrey perché avete appuntato l'italiano per venire qui. Sì, ovviamente. Allora, le domande possono essere fatte in italiano perché appunto sono qua per facilitare. Visto che è un sanscritista, AIMSA, il concetto dell'AIMSA nella filosofia indiana rappresenta molto bene il rapporto che dovranno avere con tutti gli esseri viventi. La domanda è, visto che Jeffrey è un ex sanscritista, gli è stato chiesto se il concetto... AIMSA è un concetto nella filosofia indiana che dovrebbe rappresentare il nostro rapporto con gli altri esseri viventi. AIMSA vuol dire no do no harm. Ok. A, not, HIMSA harm, no harm to any being. It's an old, old term, at least two thousand, maybe three thousand years old. It's the best single word in the history of our species. AIMSA significa non provocare dolore a qualsiasi altro essere vivente. È una parola che ha circa duemila... two thousand, three thousand years old. Duemila, tremila anni ed è probabilmente il più bel concetto, la parola che ha meglio rappresenta quello che dovrebbe essere il nostro rapporto con gli altri esseri viventi. Allora dobbiamo essere in vegetariano, sì. Vegano, sì. That's what AIMSA means. And so half of India five hundred million people are vegetarian. Ok. Metà della popolazione indiana è vegetariana, quindi dovremmo essere vegetariani, almeno. Certo, assolutamente. Quindi AIMSA è una parola che rappresenta al meglio quello che dovremmo essere. So a single word can change a culture. That's amazing. È affascinante, è sorprendente che è una singola parola possa cambiare completamente una cultura. In Italian a single poem can change a nation. A single? A single poem. Ognuno sta solo sul cuore della terra trafitto di un raggio di sole ed è subito sera. Ed è subito sera. Ok, quindi in Italia una sola poesia può cambiare tutto un pensiero e tutta una cultura. Ok. No, volevo chiederle cioè gli animali sono indubbiamente creature assolutamente complesse e ce ne rendiamo conto. però volevo chiederle se diciamo dovendo portare avanti una lotta per la rivendicazione del loro diritto di vita è necessario dover dimostrare le loro capacità intellettuali la loro profondità o possiamo anche sorvolare su questo e rispettarli anche se fossero più stupidi come dire I think I understood and you can say it's important it's a good question it's important to recognize the old old phrase of Jeremy Benthy not can they talk not can they reason but can they suffer the only important thing is can they suffer intelligence counts for nothing ok quindi la domanda per rispondere alla domanda la cosa più importante è possono parlare possono fare dei ragionamenti complessi oppure possono soffrire questa è forse la le tre frasi principali che dovrebbero farci riflettere so not can they talk no no non possono parlare but that doesn't matter ok certo non è importante che possano parlare non è importante che possano ma che che soffrano ecco c'è qualche altra domanda potrebbe raccontare un aneddoto un'esperienza vissuta personalmente che dimostra quanto gli animali siano moralmente superiori a noi e abbiano qualcosa da insegnarci riguardo alla vita grazie ok ok can you tell us some personal experience about yourself in which you can demonstrate the moral superiority about ethics of animals towards us ok I think everything we do everything that humans do is with thought so we don't act for our emotions constantly I'll give you a good example one good example ok I used to be a Freudiano I was a a pseudo analista ok I don't like it I don't like anything from my past except Lila 23 years ago but everything else I reject so Freud said one good thing he said a man can be in love and not know it for many years later can you translate that allora sostanzialmente tutto quello che fanno gli esseri umani viene fatto con la testa e non viene fatto con le emozioni per spiegare meglio lui si rifà quello che è stato un po' il suo passato lui è stato un Freudiano non non gli piacciono tante cose del suo passato tranne Lila che è sua moglie però comunque una cosa una cosa la salva can you repeat the record Freud said a man can be in love with a woman and not know it until many years later and not know it non lo sa non lo sa ok un uomo può essere innamorato questa è una cittazione un uomo può essere innamorato di una donna e non saperlo per molti anni a seguire quindi questo significa che è inconscio e significa maggior ragione che noi siamo gli unici animali che non sappiamo quello che sentiamo e per questo ho scritto il libro i cani non mentono mai sull'amore sono incapaci di mentire sull'amore sono amore sono amore quindi è per questo che ha scritto il libro i cani non mentono mai sull'amore perché semplicemente lo sentono non mentono sull'amore semplicemente lo sentono nessuno mi ha mai detto che mio cane è un ipocrita i gatti i gatti sì anche alcuni cani ok qualcun altro potrete anche potreste fare anche delle obiezioni ovviamente sì certo no volevo aveva detto che comunque il suo passato l'ha messo un po' alle spalle ma volevo sapere se la psicanalisi le è servita nel percorso di studio dell'etologia in qualche modo she's asking was psychoanalisi useful also for your path in the study of all the other animals assolutamente no no really really I mean totally useless much better to spend I spent ten years becoming a psychoanalyst much better to spend ten years with your dog or cat assolutamente no tutti gli anni spesi a studiare la psicanalisi sarebbe stato molto meglio spendere gli stessi anni passandoli con cani e gatti o qualsiasi altro animale ovviamente quando diceva che i cani quando vedono un altro cane un altro essere loro sono felici si avvicinano mi è venuto in mente quei casi di cani che hanno azzannato bambini cioè e come mi viene da pensare come può succedere cioè che cosa i understood what about dogs that bite children right exactly i mean of course it's very important and there are many many studies of this my sense is in almost every case you have almost every case you have to look at the person who has the dog so in america for example you see these macho men walking be careful my dog è peligroso nella stragrande maggioranza dei casi in cui un cane può essere pericoloso bisognerebbe guardare la persona che si prende cura di quel cane per esempio in America ci sono tanti macho men li è definiti quindi questi omoni che ti tengono a distanza dal loro cane dicono attenzione è pericoloso è pericoloso perché io probabilmente sono pericoloso o gli ho insegnato ad essere pericoloso quindi non in tutti i casi chiaramente non è una generalizzazione però nella maggior parte dei casi bisognerebbe guardare prima al compagno umano che ha accompagnato questo cane ovviamente sempre perché non si può generalizzare detto questo quello che ha detto adesso nella sua esperienza personale allora è capitato che avessero un cane Laila sua moglie è pediatra quindi lavora tutti i giorni con i bambini e questo cane non poteva sopportare la vista dei bambini e cercava a tutti i costi di aggredirli per cui loro hanno dovuto affidare il cane a delle persone carissime che comunque si sono occupate di lui però in ogni caso tuttora è inspiegabile come mai pur avendolo accudito avesse questa reazione verso i bambini probabilmente era stato per precedenti esperienze Buonasera io ho letto un suo libro ne leggerò anche altri perché sono tutti bellissimi mi ha colpito tantissimo questa cosa dei suoi gatti che la seguono nelle sue lunghe passeggiate sulla spiaggia fino dentro al bosco almeno io ricordo così può anche darsi che mi ricordi male però lei ha dei gatti ha tanti gatti I need a translation She said that Okay Allora she said she once read your book and it was about your cats and she was amazed by this story that your cats follow you walking on the shore Okay on the beach and she would like to know something about your cats too not only on your dog Yeah, yeah, yeah Okay Well we had five cats We had five cats on the beach in New Zealand and this beach you could not get to it with a car so it was very safe and during at night I would go for a walk on the beach when the moon was out and the five cats would go with me and they loved it and what they would do they would ambush me so they'd go ahead and they'd wait and when I'd come they'd jump out and I'd have to go and then they'd look Can you do it? Yeah Allora quando viveva in Nuova Zelanda avevano casa in questo posto che era difficilmente raggiungibile con la macchina ed era una spiaggia difficilmente raggiungibile con la macchina c'erano questi gatti che quando lui andava a fare delle passeggiate tramontata già il sole quindi solo con la luce della luna lo seguivano poi lo precedevano magari si nascondevano nel bosco o nei cespugni poi gli facevano le imboscate Ok Bellavde Io ho apprezzato all'inizio della sua relazione allora che lei ha detto della possibilità del cambiamento Io sono cambiato persone che conosco sono cambiate nel senso che da tanti anni sono vegetariano poi sono diventato vegano io faccio il suo stesso lavoro quello che lei faceva e che non ha mai più io peraltro ritengo che la psicanalisi possa aiutare nel cambiamento non credo che sia l'elemento centrale nell'ambito del cambiamento verso il rispetto degli altri viventi ma questo concetto è fondamentale quello del cambiamento quindi vorrei sapere come ritiene lei che sia possibile svolgere un'operazione che faciliti il cambiamento in che modo il cambiamento cognitivo emotivo possa favorire lo sviluppo della sensibilità e del rispetto verso gli altri viventi come è possibile questo cambiamento come può succedere well I think I would love to talk about why I'm against psychoanalisi but this is not the right time but about change I think the most important thing is change comes from young people mostly e quando young people go to these sanctuaries like the people here there are two sanctuaries and they see these animals especially il maili the pigs and they realize a pig is like a dog the minute a child sees that or it can be us too what is the difference I was once on a walk in the mountains with a friend near a a place where animals were safe and I thought somebody is following me and I turned around and there were eight pigs exactly like dogs they love to go on walks and at that moment I realized a pig and a dog and a cat they are all the same and it is an important moment we have to have a personal experience like that a transformative moment everybody here who is vegan has had some moment when they thought was it were you telling me or Simonetta about eating fish it was me the minute oh my god I can never do that again something profound happens inside us that's a lot ok allora sulla psicanalisi ovviamente non è il post il momento per quanto riguarda il cambiamento il cambiamento migliore è quello che comincia quando si è giovani e un buon modo per innescare il cambiamento e cominciare a vedere a vedere le cose anche diversamente dal punto di vista emotivo e anche razionale è portare i giovani i bambini e andare anche noi nei santuari nei santuari per animali che comunque sono adesso si stanno diffondendo ne abbiamo anche noi ce ne sono tanti anche qua a Parmaetica e nei santuari noi possiamo vedere comunque quanto effettivamente non ci sia una reale differenza fra un maiale e un cane e un gatto ricordava di una sua esperienza personale camminando facendo una camminata in montagna in un posto vicino sempre a una specie di santuario era un rifugio per animali a un certo punto si è girato perché si è sentito seguito ed erano cinque maiale e lì ha realizzato che cioè cavolo come potrebbe fare un cane come potrebbe fare un gatto e c'è sempre un momento in cui chi è vegano chi vuole diventare vegano ha un momento di epifania quasi in cui dice cavolo ma come ho fatto a non pensarci prima e ricordava di un racconto che gli ho fatto prima di quando ho deciso di smettere di mangiare animali mi è successo col pesce per esempio e lì ho detto oh non potevo farlo più ecco è una meraviglia meraviglia si io concordo con la sua risposta nel senso che l'esperienza diretta l'esperienza sensoriale può permettere qualche cosa di molto diverso da un contatto puramente razionale soprattutto su basi ideologiche e quindi avvicinarsi emotivamente il contatto quindi l'esperienza diretta sensoriale è un elemento che può aiutare pur tuttavia ci sono persone che a contatto con l'animale non so in ambito scientifico anche li torturano ci sono persone che che vanno a caccia hanno contatti con gli animali e provano piacere nell'ucciderli alla corrida in tante forme quindi può essere un elemento importante certo quello del contatto diretto ma non è naturalmente sufficiente perché non è così per tutti no yeah I think I understood I'll tell you a story that is about that when I went to see Anna Freud Freud's daughter and I I wanted her to give me Freud's unpublished letters and she looked at me say shemo you're crazy I wouldn't give you that goodbye so I started to go and I saw her dog oh nice dog I started patting the dog oh she you like dogs I said send that they send that they will talk some more so but of course like you say I think he said that it doesn't follow that if you love dogs you're going to expand it to other animals and this is a big question you must always ask your friends when you go to dinner you love dogs yes I love dogs but you're eating a little baby chicken you're eating a baby how come in a nice way just I want to understand because it is one of the big puzzles that ordinary people most of the Parmigiani most of the people in Parma are love their dogs and cats and eat pigs and they would not think about it if you say why they wouldn't have any answer and it's important to ask I think don't you think don't you think allora ha raccontato prima un aneddoto quando è andato dalla figlia di Freud Anna a chiederle le lettere del padre lei attenzione lei lo ha guardato come se fosse pazzo e lo ha mandato via lui ha incontrato il cane di Anna si è messo ad accarezzarlo lei vedendo questo gli ha detto ma ti piacciono i cani allora fermati che parliamo questo ovviamente è diciamo suo personale chi ama i cani non è detto che ami gli altri animali allora un approccio più magari razionale anche oltre che emotivo e sensoriale con per far porre delle domande alle persone è delicatamente gentilmente quando siamo fuori a cena con degli amici chiedere ti piacciono i cani sì mi piacciono molto beh allora perché stai mangiando un pollo perché stai mangiando un cucciolo di mucca perché stai mangiando il vitello o qualcos'altro e quindi porre delle domande perché chiaramente è solo dal dubbio che possono eventualmente nascere delle aperture quindi far sì che siano anche gli altri che si pongano loro stessi delle domande con anche le domande che poniamo noi a loro per farli riflettere su quello che stanno facendo sì in realtà poi era la stessa cosa che poi ha detto il signore che riguarda questa possibilità di cambiamento che insomma non è non mi sembra possibile per tutti non so se è perché ci vuole una maggiore sensibilità che non tutti che non tutti hanno ad esempio non so nelle pagine animaliste si usa molto questa frase che dice se i mattatoi avessero le pareti di vetro nessuno mangerebbe più animali però insomma non è oggettivamente non è così perché insomma tutti tutti sanno cosa succede di mattatoi tanti ci lavorano ma nonostante ciò la carne la mangiano quindi insomma questa frase secondo me è ancora di scegliere di scegliere di scegliere Slaughterhouses were made of glass, we would all be vegetarians. It's not like this. Everybody knows what happens in slaughterhouses, but the animals still die in there. So maybe this change is not so possible, maybe, for all. Here, there's one good thing from psychoanalysis, the concept of denial. Refuto. Refuto. Of not seeing. And that is the greatest puzzle of our species, that we do not see the harm we do to animals, the harm we do to our children, the harm we do to our friends. We don't see it, the harm that America does to the rest of the world. You know, Berlusconi doesn't see what he's doing. I mean, you say to yourself, what is the matter with these people? And the only answer I can think of was Freud's, they are in denial. In this case, there is very useful one word of psychoanalysis, which is the refusal. The refusal of the pain that we cause to others, not only to other animals, but also to our children, to our family, to our friends, to our friends. And one, one, let me add one thing even more important than that is to try to understand the origins of human indifference to the suffering of others. That for me is the greatest puzzle in history. Ancora più importante di questo è capire qual è l'origine dell'indifferenza che l'essere umano ha nei confronti di tutta la sofferenza che provoca. Questo è il più grande enigma forse che ci rappresenta. Il fatto che siamo costretti a convivere quotidianamente con la tortura e il massacro di miliardi di esseri senzienti, che tipo di riflessione ci porta nel quotidiano? Secondo me apre una problematica molto stretta. Cioè, un errore di questo genere si può fermare veramente con mezzi pacifici o no? The question is posing is, we face the torture and the death of billions of animals in a world caused by us. So the big question is, is it possible to stop it in a pacific way or not? Well, the first way, of course, is to become a vegan. The best thing you can do now for animals, for the planet, for your health, is to become vegan. I think that's becoming recognized around the world. I'm living in Berlin. I'm astonished at how many vegans there are. Italy, how many vegans there are. Israel, so many countries are beginning to see this. And I think this is a hopeful sign. Because if you can see this, you can start to see other things. It's the first step. Beh, il primissimo passo è diventare vegani. Lui al momento vive a Berlino. E quello che lo ha, diciamo, affascinato molto e che lo ha impressionato molto positivamente è la grandissima quantità di vegani che stanno nascendo a Berlino. Ce ne sono tantissimi, in Germania in generale. anche in Italia. Quindi, pacificamente o non pacificamente. Intanto, cominciando con l'essere vegani, per mostrare anche all'esterno, di modo che anche gli altri possano prenderne esempio e fruirne. Parla della mia vita personale e il fatto che io mi occupi magari professionalmente dei diritti umani per lavoro denota che comunque sono inseparabili i due campi, i diritti umani e i diritti animali e questo dovrebbe diventare evidente anche con l'esempio personale agli altri. Rispetto alla sua domanda di fondo del dubbio della insensibilità dell'uomo rispetto alla sofferenza, la questione concerne il concetto dell'identificazione. Io posso essere vicino alla sofferenza di un altro nella misura in cui mi identifico con l'altro. Quindi, in gran parte, oltre ad essere un processo di carattere individuale e emotivo, è un processo di base culturale. Quando viene posta una frattura di tipo concettuale ideologico fra l'uomo e gli altri viventi e questi non vengono considerati in modo aprioristico ma ideologico dei viventi ma degli oggetti, naturalmente questo rende molto più difficile il processo di identificazione con loro e quindi la possibilità di provare compassione. A proposito che ci diceva, sull'indiferenza che ci si tratta di afferci di tutti gli altri animali, questo è collegato al fatto che gli umani tendono a riconoscere loro a loro in altri viventi. And if you consider all the other animals as objects, so ideologically, and the process of self-recognizing yourself into an animal or other species, it makes it even more difficult to stop this indifference towards the suffering. Yeah, I think identification is, for many people, it's very difficult. I mean, my son told me today, I hate, what do you call those little bugs that, cockroaches. I can't stand them. Well, I can't ask him to identify with a cockroach, but I have to tell him that you have to recognize that every living being has a right to be who they are and to exist. It's not for you to say, I don't like this, that, or the other. So it's not so much an identification as a recognition that every living being has its own value. Oggi, parlando proprio con suo figlio, suo figlio ha detto che proprio non riesce a sopportare gli scarafaggi. Scarafaggi, crack roaches. E lui, davanti a questa esternazione, gli ha detto sostanzialmente che anche se non gli piace qualcosa, non si può riconoscere con questo animale, il diritto alla vita, all'esistenza e a vivere un'esistenza compatibile con la specie, ovviamente, non deve essere negato a nessuno. Quindi questo processo dell'identificazione dovrebbe essere semplicemente superato con il non tentativo di identificarsi, ma semplicemente con il riconoscimento del diritto alla vita, all'esistenza, un'esistenza compatibile con la propria specie per tutti. Grazie. In Oriente ci sono due parole abbastanza famose. Una è la metensomatosi, quindi la trasmigrazione delle anime, e una è il concetto del karma. Reazione, azione e reazione. Se noi immaginiamo e facessimo nostre il concetto secondo cui noi quando moriamo possiamo reincarnarci in una creatura inferiore, fra virgolette, a livello coscienziale, in base al nostro karma, quindi in base a ciò che noi abbiamo creato nella nostra vita, nel bene o nel male, a reincarnarci in una creatura superiore o inferiore, sempre in base a ciò che noi abbiamo seminato, probabilmente l'empatia che noi possiamo provare nei confronti degli altri esseri viventi, per dirla, come direbbe Tolko Rinpoche, ogni essere vivente possibilmente è stata nostra madre, è stato nostro fratello, o viceversa. Probabilmente il nostro rapporto con loro sarebbe diametralmente apposto. Cosa ne pensa? Cosa pensi di l'idea che in l'Oriente filosofia e le lingue, c'è l'idea del passaggio del sangue dal corpo al corpo e del karma. Quindi quando mori, la sua sangue può passare dal corpo al corpo di un corpo inferiore o superiore. Quindi se noi accettiamo questa idea, considerando che magari un altro being on Earth potrebbe essere la madre o il nostro padre, possiamo avere una migliore relazione con tutti gli altri esseri. Cosa pensi di questo? Questo è il problema con l'idea religione. Se tu fai qualcosa perché la sua religione ha detto di farlo, non credo che sia venuto dalla tua sua propria. Quindi se le catolici dicono che è bene questo animo, è solo il suo opinione. Se gli indiani dicono che non devono fare questo animo perché sia il tuo fratello, non è una buona ragione. Inoltre, il problema con il karma è che è il problema del karma. Oh, non posso fare questo, è il problema del karma. Il problema di tutte le religioni è quello che ti dicono di fare perché è la religione che ti dice di farlo. Se la religione cattolica ti dice mangia questi animali e va bene, cioè lo prendi come dogma e lo fai, esattamente come religioni orientali anche in India che ti dicono non mangiare questi animali perché potrebbe essere tuo fratello, potrebbe essere tua madre, potrebbe essere tuo padre. è sbagliato perché sposti l'ago della bilancia dall'animale se stesso a quello che potrebbe essere perché si è reincarnato qualcuno in quell'animale. Quindi bisognerebbe considerare l'animale non perché potrebbe essere una persona cara rincarnata o un essere umano rincarnato, ma come per qualsiasi altra religione, l'animale è importante in sé per sé. Grazie mille e in fondo ci sono i libri che potete acquistare con anche la firma di Jeffrey. Grazie mille.